Sono sincero nel dirlo che l'episodio non l'ho rivisto, però sono venuto per analizzare la partita e credo che la domanda mi sia stata fatta. Sì, però analizzare la partita e parlare di un singolo episodio, vedo gente molto più grande di me, con molta più esperienza di me e sapete benissimo che poi alla fine gli episodi a sfavore e a favore si compensano. Quindi parlare di una partita e dare un valore e commentare una partita su un singolo episodio non credo che sia giusto e credo che sia riduttivo anche per la squadra e per entrambe le squadre. Detto ciò, oggi ho visto una squadra, la mia, che si è presentata con un alteggiamento giusto, con il tipo di partita che andava fatta, di categoria. Erano due squadre che si sono affrontate in maniera speculare, con due sistemi di gioco uguali, con qualche interprete diverso, però più o meno era quella la partita ed è stata fatta sui duelli. Qualcuno l'abbiamo vinto noi, qualcuno l'ha vinto loro e nell'arco della partita, per quello che si è visto nei 95 minuti, credo che sia stato un pareggio giusto. Faccio fatica a ricordare qualche parata del mio portiere Saracco, ne ricordo una di Vannucchi nel secondo tempo su un tiro da Andrea. Poi altre situazioni, c'è stato un po' di possesso in più da parte nostra, ma abbastanza sterile, però secondo me con un pizzico in più di qualità nelle scelte finali potevamo creare un qualcosa di più. C'è stato un po' di più.